L'italiano si guarda allo specchio a Firenze, la città di Dante, ospita per la terza volta gli stati generali della lingua italiana, organizzati dal Ministero degli Esteri insieme a quelli dell'istruzione e dei beni culturali e dedicati alla tutela dell'italiano fuori dai confini nazionali. Presenti per il governo il Premier Matteo Renzi e la Ministra dell'istruzione Stefania Giannini, neanche il tempo di aprire i lavori che Renzi ha dovuto rimediare a una frase del Vice Ministro degli Esteri Mario Giro che ha dichiarato «Noi siamo la lingua del sì, basta con i no pessimisti e rassegnati». Il riferimento del Vice Ministro Giro a quel sì era una dotta citazione del 33esimo canto dell'inferno, non c'entra niente con l'attualità. Alla promozione dell'italiano sono stati destinati i 50 milioni di euro inseriti in legge di stabilità. «Noi abbiamo uno strumento, abbiamo delle risorse e abbiamo una meta che è quella di internazionalizzare il nostro paese». Ma la tutela dell'italiano non è tutta rose e fiori se il governo sta trattando con gli autonomisti altoatesini per togliere il 60% dei nomi in italiano dai segnali stradali in provincia di Bolzano, lasciando solo quelli in tedesco. «Ma è una questione di interesse nazionale, perché negare il diritto a qualunque altro italiano che risiede in ogni altra parte d'Italia di venire in una parte del territorio nazionale e non trovare più la lingua italiana per indicare luoghi e realtà, è un atto di violenza». Questo e le troppe concessioni del governo all'inglese nei testi di legge, come nel caso del Jobs Act, sono le ragioni della proposta di legge a tutela dell'italiano presentata dal deputato di Forza Italia Fabrizio Di Stefano, insieme al consigliere della provincia di Bolzano Alessandro Urzi e al leader di azione nazionale Gianni Alemanno, sceso in piazza davanti a Palazzo Vecchio. Al via, il servizio WhatsApp messo in campo dal vicepresidente del Consiglio regionale Marco Stella. L'obiettivo è accorciare la distanza tra cittadini ed il mondo delle istituzioni attraverso l'utilizzo della tecnologia. Uno strumento che permetterà così ai toscani di mettersi in contatto con il vicepresidente, con la possibilità di chiedere e ricevere informazioni relative all'attività della regione. È un nuovo modo di comunicare, ci mettiamo al passo con i tempi, ha così dichiarato Stella durante la conferenza stampa. Un nuovo servizio innovativo, abbiamo deciso di aprire un servizio WhatsApp per tutti i cittadini che hanno voglia di comunicare con il vicepresidente del Consiglio regionale. Le distanze fra la politica e i cittadini sembrano ancora lunghe, non basta internet, non bastano più le email, allora un servizio di WhatsApp in tempo diretto, tutti i cittadini ci possono mandare un messaggio, noi risponderemo assolutamente in tempo diretto, appena ce la facciamo, per comunicare e avvisare quello che fa la regione toscana, quali sono i bandi, come poter partecipare, quali sono le opportunità di finanziamento, qual è l'attività che sta svolgendo il Consiglio regionale, insomma un nuovo modo di comunicare, ci mettiamo al passo con i tempi per accorciare le distanze fra la politica e i cittadini. Chiediamo che sia utile farlo, lo abbiamo fatto, tutti i cittadini possono mandare un messaggio al 331-5279-611, nuovo servizio di WhatsApp del Vicepresidente del Consiglio Marco Stella. Il bianco candido delle pareti, la luce naturale, che entra in perfetta sintonia con le maestose opere del primo rinascimento. Ecco le nuove sale della Galleria degli Uffizi, dedicate all'arte di Botticelli, Pollaiolo, Ghirlandaio e Ugo van der Goss. Negli ampi spazi, la primavera e la nascita di Venere e di Sandro Botticelli adesso risultano più godibili, in modo che il visitatore possa osservarli con calma e raccoglimento, grazie anche alla nuova illuminazione naturale. Le due tavole adesso sono protette da robusti cristalli antiurto e antiriflesso. Il progetto che rientra nei nuovi uffizi delle nuove sale risponde innanzitutto alla necessità di rendere più confortevole la visita alla collezione botticelliana, calamita per i visitatori di tutto il mondo. Creiamo dei dialoghi dentro alla Galleria e speriamo che poi i visitatori continuino tra di loro questi dialoghi, facendosi ispirare proprio dal fatto visuale, dal dato visuale e poi traducendolo nelle loro riflessioni e nelle loro vite. L'intervento di rinnovamento delle sale, i restauri dei dipinti, oltre che una parte di quella destinata all'illuminazione, sono stati finanziati con circa 700.000 euro raccolti dalla fondazione no profit Friends of Florence. Devo dire che per il finanziamento per noi Friends of Florence è stato facile perché è un grande richiamo in tutto il mondo, tutti quelli che amano Botticelli, tutti quelli che amano all'arte fiorentina e poi in più questo era proprio un dono a Firenze per commemorare il cinquantesimo anniversario dell'alluvione da parte di Friends of Florence. Tra le altre opere d'arte esposte nelle nuove sale anche le virtù del Pollaiolo e l'adorazione dei pastori e santi di Van der Goss.